Una candidatura nel segno della novità che porta il suo nome, con quali caratteristiche? Io spero nelle caratteristiche di rappresentare i comuni, ho visto i miei trascorsi di sindaco, di presidente Anci, quindi non soltanto un terzo carato dall'alto scelto dalla regione Basilicata o dal presidente della regione nello specifico, ma siccome i comuni valgono anche il 51% del capitale sociale, in assemblea raramente riescono ad avere voci in capitolo, l'unico momento in cui vengono ascoltati e valgono anche il 74% dei voti, ecco il punto di vista dei comuni con i tanti problemi che ci sono sulle reti idriche nei comuni, vediamo in questi giorni, ma magari contro la mancanza di acqua forse si può fare poco, ma in una programmazione si può provare a dare risposte migliori, i cittadini ci inviano foto con perdite di acqua, bollette salate, a volte giustificate, a volte non giustificate, fontane chiuse, perché i comuni non possono più permettersi neanche di pagare quell'acqua, perché sono costi importanti questo per sintetizzare e la speranza appunto che una governanza si possa almeno condividere con i comuni. Questa progettazione come può sposarsi e comunque incontrare quei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza se ci sono? Ma i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, qualcuno sfugge chiaramente, sono stati programmati e progettati nel 2022, quindi in questo momento se ci sono ancora bisogna soltanto spenderli velocemente perché come ben sapete vanno attuati i progetti entro il 30 giugno 2026, ma quella è solo una risorsa, ci sono risorse sui fondi strutturali europei che è acquedotto a disposizione e ci sono i fondi complementari che possono aiutare, i fondi di sviluppo e coesione che la Regione deve in questi giorni mettere sul campo dopo l'accordo col Governo, quindi ci sono tante risorse. Posso dire che in questo campo abbiamo sempre come sindaci lamentato, ma a qualsiasi amministratore, non solo al presente, anche in passato, una estrema lentezza nell'utilizzo delle risorse, quindi la programmazione c'è stata, ma un'estrema lentezza nella progettazione, nell'esecuzione delle opere, tant'è vero che qualche risorsa si è persa e si è dovuta recuperare e si dovrà recuperare. Come pensa il suo ruolo di amministratore unico possa fare la differenza? Allora in un quadro clinico così complesso, appunto non semplice, da un malato, non dico grave, ma da un malato che è da tanto tempo acquedotto lucano, l'amministratore unico non fa la differenza, tant'è vero che la richiesta principale che mi ha portato in campo, in rappresentanza anche di tanti sindaci che hanno sottoscritto la candidatura e di chi non ha fatto in tempo perché l'ho presentato in extremis, è dovuta alla circostanza che io chiedo, e molti amministratori chiediamo, un consiglio di amministrazione, che lo statuto prevede di 5 componenti, anche per suddividere i tanti compiti, il ruolo che ha acquedotto lucano, perché c'è l'idrico, si occupa del fognario, nel fognario spesso ci sono le acque bianche che si commistono nei comuni, quindi la depurazione, le zone industriali che probabilmente non competono ad acquedotto, che portano gravi perdite, ma competerebbero alle asi, ai consorti industriali, ad api basse di cui non capiamo i ruoli. Quindi io auspico, al di là della mia candidatura che è sul campo, a un ripensamento di governance, a un consiglio di amministrazione a 5, nel quale se vorranno i sindaci ne farò parte volentieri, se così non sarà perché la regione proseguirà, proveremo da soli, anche però con una governance tecnica, se dovesse amministrare, perché la base fondamentale poi è la struttura tecnica di acquedotto, che in questo momento vede tanto personale, non ben allocato nei posti, che avrebbe bisogno in alcuni posti nevragici, di tecnici, di amministrativi ulteriori. In chiusura, visto che sono davvero tanti tasselli da mettere in ordine, qual è il cronoprogramma che lei immagina? Difficile immaginare un cronoprogramma, perché per esperienze il cronoprogramma lo dettano le emergenze, quindi chiaramente il primo cronoprogramma sarà quello dei 29 comuni, che sono senza acqua in questo momento, e capire come. L'altro cronoprogramma, se è vero che siamo in un momento straordinario, non lo so, perché ormai abbiamo questi cicli di siccità da troppo tempo, è individuale la risorsa idrica che si può andare ad aggiungere senza aspettare le piogge a quella attuale, tanti sindaci dicono di avere e abbiamo un territorio pieno di acque che sgorgono nonostante la siccità, quindi vanno recuperate, se va capito come ancora tanti fiumi, affluenti, canali fossi possono confluire nelle nostre dighe e quant'altro. Queste possono essere delle priorità, ma l'altra, la dicevo implicitamente prima, tante risorse che possono aiutare a questo, per efficientare anche energeticamente, che non abbiamo detto, evitare i costi della bolletta, la rete, ci sono tanti progetti, la velocizzazione, nella progettazione, nell'appalto, nell'esecuzione delle opere, altrimenti non arriveremo da nessuna parte.